Lo studio di architettura dell'architetto Stefano Seri sta predisponendo questo cantiere in piazza, già da domattina si installerà la pedana che poi dovrà contenere l'albero. Con particolare attenzione, effettivamente l'architetto ha veramente previsto tutto, anche un letto di sabbia appunto sulla stella della piazza per fare in modo che questa sia protetta dalla pedana che poi andrà a sostenere l'albero. Il 28, quindi sabato 28 ore 17.30 ci sarà l'accensione delle luci in città come promesso ormai da un mese a questa parte e la faremo con un piccolo corteo che parterà appunto dalla zona di Via Cavour e Piazza Costanzi con la banda Città di Fano fino ad arrivare dall'altra parte della città, quindi a Porta Giulia. È un po' un momento di festa, un momento di riconoscimento e di ringraziamento per questo supporto che ci è stato dato. Una settimana la passeremo con l'installazione del nuovo albero perché appunto l'installazione delle luci avverrà senza il nuovo albero installato perché invece per il nuovo albero sarà prevista un'inaugurazione, una cerimonia apposita nella giornata di domenica 6 di dicembre. Grazie. 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 Grazie.